Un nuovo campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato salvo qualche annuvolamento. In Toscana domenica 30 giugno sereno, poco nuvoloso salvo addensamenti sulle province nord-occidentali dove non si escludono brevi piogge. Venti deboli o temporaneamente moderati da ovest, mari poco mossi in aumento a mossi sul settore settentrionale dal pomeriggio. Temperature minime in prevalenza stazionarie, massime in calo con punte di 33 gradi. In provincia cielo parzialmente nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 17, massima 26 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane minima 16, massima 23 gradi. A Via Regge sul litorale minima 20, massima 25 gradi. Lunedì cielo sereno e temperature in aumento.